Ciao a tutti da Poderac, come vedete siamo su Eurotrack Simulator 2 su Poderac Per quale motivo? Perché oggi siamo in un tutorial Andremo a vedere come ritirare i premi su World of Tracks Quando facciamo un evento su American Track Simulator o Eurotrack Simulator 2 L'evento in questo caso è Start Your Engines E sono come progresso a 11 su 12, quindi praticamente alla fine Ho completato adesso il viaggetto Sono appunto arrivato in azienda Come vedete E devo fare la consegna Tra l'altro ho sbagliato azienda, quindi Facciamo finta di parcheggiare premendo invio Ok, ultimo episodio del evento Start Your Engines E vediamo quanto abbiamo fatto 12 su 12, evento completato Quindi, adesso che abbiamo completato l'evento Come faccio a ritirare i premi promessi? Semplicissimo, non vi arrivano in automatico, non vi arrivano alla fine dell'evento Ma potete ritirarli direttamente nel sito worldoftracks.com Andate su questo sito, ok? Una volta che siete andati nel vostro worldoftracks, avete fatto il login, andate in my page Qui vi dice eventualmente che avete sbloccato l'evento, ok? Andate in events e andate qui sull'evento in questione che può essere stato da Your Engines Ma questo video sicuramente varrà anche per i futuri eventi sperando che non cambi nulla Andate qui su ritira su Steam, questo pulsante qua Premete Fate il login su Steam E in conclusione ricevo questo messaggio Adesso puoi trovare i tuoi oggetti nel to store di Steam Fate ok Perfetto, qui vi dice già ritirato il premio Andate su Steam E che cosa accadrà? Andando su gioca si avvierà Euro Track O American Track, dipende dove avete il vostro gioco Esch, esch E come vedete appena sono entrato nel gioco mi escono gli oggetti che sono stati aggiunti nell'inventario di Steam E in questo caso i premi sono ben 5 Accessori cabina, accessori cabina cron Accessori cabina ETCR Pace Pit E una verniciatura Noi facciamo ok Quando andremo a personalizzare il nostro camion Avremo modo di aggiungere questi elementi Alla fine il tutorial come avete visto è stato molto semplice Spero di esservi stato d'aiuto Se è così lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Seguitemi su Facebook, Instagram, Telegram Che trovate sempre qui sotto in descrizione Magari se volete il gioco scontato ve lo lascio qui sotto in descrizione Sotto i 5 euro e noi ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie.